Ciao, tantissimi complimenti, avete preso vari premi, ci vuoi fare un piccolo riepilogo? No, abbiamo preso uno per la produzione e uno per gli effetti visivi, così abbiamo contentato ambo le parti di questo team, diciamo. Moltissimo, però moltissimi complimenti per il fatto che un film di animazione è stato riconosciuto, un film di serie A. Eh sì, ci fa piacere per i fruitori, fa piacere per noi, per il team, per la squadra e tutti quelli che lavorano nell'animazione, ma fa piacere soprattutto perché è una scoperta penso per il pubblico, quella è la cosa più divertente, no? L'ultima cosa, ci fai un saluto per il centro sperimentale, cosa ti ricordi, cosa gli vuoi dire? Grazie, è stata un'esperienza fantastica, è stato il motivo per cui sto qua a fare questo, insomma, il centro sperimentale. Se ti corsa ti lasciamo, dai, grazie. Mi vengo a trovare, se mi invitate ci vengo, come? A presto.